Ciao raga, buona giornata a tutti, buona mattinata. Qua è la mattina presto, oggi vi dici, vi faccio vedere com'è il mare oggi. Stiamo facendo la passeggiata, io e io e io e Anna Maria. Saluto mamma! Sì, salutiamo i nostri amici! Con lo sfondo del mare oggi vogliamo salutare i nostri amici più cari, quelli che da sempre ci seguono, dall'inizio proprio del nostro canale sono stati i primi a iscriversi perché ci hanno sempre incoraggiato tantissimo e ci vogliono troppo bene. Vogliamo salutare Nonna Graziella, Graziella, bella, Salvatore e poi Bruno, Francesca, carissimi e Marta, Marta che ci ha aiutato con un stato di video a fare i montaggi, il nostro tecnico del suono e dei video. Poi Davide e poi Francesco, Laura, Carlo che oggi torneranno in Sardegna insieme alla nostra Chiara, finalmente arriveranno qui da noi. Quindi oggi vogliamo dedicare a loro un caro saluto con l'AFA che stamattina presto ci segue purtroppo. Dai, speriamo passi presto. Un bacio grande a tutti e buona giornata amici, ciao!